Il 4 novembre 1918 finiva la grande guerra, un evento che ha segnato in profondità la storia del ventesimo secolo. Quel giorno è da allora dedicato alle forze armate, al ricordo di quegli uomini, spesso ragazzi, che hanno dato la vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere. Il 4 novembre si celebra la festa dell'Unità d'Italia, la giornata delle forze armate. Il 4 novembre 1918 finiva la festa dell'Unità d'Italia, la giornata delle forze armate. Il 4 novembre 1918 finiva la festa dell'Unità d'Italia, la giornata delle forze armate. Il 4 novembre 1918 finiva la festa dell'Unità d'Italia, la giornata delle forze armate. Il 4 novembre 1918 finiva la festa dell'Unità d'Italia, la giornata delle forze armate. Il 4 novembre 1918 finiva la festa dell'Unità d'Italia, la giornata delle forze armate. Il 4 novembre 1918 finiva la festa dell'Unità d'Italia, la giornata delle forze armate. Il 4 novembre 1918 finiva la festa dell'Unità d'Italia, la giornata delle forze armate. Il 4 novembre 1918 finiva la festa dell'Unità d'Italia, la giornata delle forze armate. Il 5 novembre 1918 finiva la festa dell'Unità d'Italia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.